Le indagini dei carabinieri sono partite dopo la denuncia da parte dei genitori e il racconto di una bambina di 10 anni che ha riferito di essere stata palpeggiata in mezzo alla strada nei pressi di un parco comunale da un uomo di circa 80 anni. Il tutto risulta essere accaduto in un comune nel nord del Vallo di Diano. La bambina era con altri amici quando il pensionato le ha avvicinati. Con una scusa si è allontanato con la bimba e l'ha palpeggiata. A questo punto la piccola è fuggita via Orlando. Dopo alcuni minuti ha trovato un parente ed ha raccontato tutto. Di seguito è scattata la denuncia. La piccola e anche i suoi amici hanno poi individuato il presunto molestatore. La procura della Repubblica di Lago Negro e i carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno attivato tutte le indagini del caso e l'uomo, un pensionato molto noto nel paese, risulta essere indagato. Al vaglio degli inquirenti le dichiarazioni della bambina e tutti gli aspetti di questa vicenda.